Per settimana scorsa siamo con Matteo Turinese dell'Arabona. Allora Matteo, direi che sei stato uno dei migliori in campo della tua squadra. Hai fatto un grandissimo gol, che ho ripreso, forse male, non lo so, poi lo guarderò. Direi che siete una bella squadra, dimmi le tue impressioni su questa partita e dove arriverà l'Arabona in campionato secondo te. Intanto, bravissimi, noi perché abbiamo lottato, mi sono piaciuti ragazzi, abbiamo giocato bene, secondo tempo un po' meglio, c'è da migliorare sempre di più. Anche la scorsa ci siamo un po' sciolti nel secondo, ma va bene, ci siamo. Io, salvezza tranquilla, poi vediamo. Intanto cerchiamo di fare più punti possibili, poi cerchiamo di andare avanti con Calpan, sappiamo i nostri valori, i nostri problemi e cerchiamo di colmarli al lunedì e al mercoledì quando ci alleniamo. Direi che ho visto una bella squadra, mi siete piaciuti tu, mi è piaciuto il numero 9 Musso, se non sbaglio, e anche il numero 11 Moje. Direi, ha molte belle azioni, io penso che l'espulsione di Alfa, mi sembra, ha condizionato direi la partita, perché fino a quel momento eravate su 3 a 2 e potevate portarla in porto. Secondo me l'espulsione c'era, vedendola così alzata un po' troppo la gamba, per me il rosso c'era. I miei compagni dicono di nuovo, cioè io sono oggettivo, per me c'era tutta la vita. Ma non solo loro due sono bravi, siamo bravi in tanti, siamo bravi tutti, se ci impegniamo siamo bravi, possiamo davvero fare qualcosa di importante, speriamo bene. Sì, siete tutti bravi, io dicevo quelli che mi avevano di più impressionato oggi. Di modo apprezzo la tua sportività e in bocca al lupo per il campionato. Grazie, grazie mille, ciao.